Un cordiale buongiorno dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Andrea Biagioni. Iniziamo con la PPL dove si segnalano due chilometri di coda a causa di lavori tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno, coda di un chilometro sempre a causa di lavori anche tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. In A1 rallentamenti tra il Bivio con l'A1, Firenze Nord e il Bivio con la variante del Valico per traffico intenso in direzione Bologna. Fare anche attenzione ad una perdita di carico tra Val di Chiane e Chiusi Chianciano in direzione Roma. E chiudiamo con il traffico aereo. Il volo delle 14.30 in partenza da Pisa e diretto a Bucarest decollerà alle 15.10 mentre il volo delle 15.10 sempre in partenza da Pisa ma diretto ad Amsterdam decollerà alle 15.40. Muoversi in Toscana Info è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana. Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!